Sono stati oltre 3.200 gli atleti che hanno preso parte ai due eventi sportivi che si sono svolti nel fine settimana appena trascorso ad Agropoli. Stiamo parlando dell'ottava edizione del Salerno Open di danza sportiva che si è tenuta nei giorni 9 e 10 marzo presso il Pala di Concilio. Alle gare hanno preso parte 2.000 atleti dagli Under 6 ai Over 75 provenienti da diverse parti della penisola. Per la prima volta le gare hanno visto la partecipazione anche di atleti paralimpici. Nella giornata del 10 marzo presso la piscina Elysium invece si sono svolti inoltre i campionati regionali e Endas di nuoto. In questo caso sono stati 1.200 gli atleti partecipanti. Se si considerano anche i relativi accompagnatori, sono state davvero numerose le presenze registrate sul territorio che hanno affollato le strutture ricettive, i ristoranti, i bar della città di Agropoli, dando un minimo di respiro all'economia locale. Si è trattato dei due primi eventi del ricco cartelone appositamente preparato dal comune di Agropoli e che si protrarrà a Frino a primavera inoltrata. Il 18 marzo è in programma il meeting internazionale di Orienteering, spazio poi al tennis dal 29 marzo al 7 aprile, presso il Tennis Village. Ci sarà il torneo nazionale di tennis, terza categoria. Il 31 marzo torna l'Agropoli Half Marathon, giunta quest'anno alla ventesima edizione. Iniziamo bene, afferma il sindaco Adamo Coppola, ai nostri weekend all'insegna dello sport. Nel solo fine settimana, appena trascorso, abbiamo avuto il piacere di ospitare oltre 3.200 atleti per due diversi eventi che si sono svolti sul territorio patrocinati dal comune. Così si proseguirà nei fine settimana, che seguiranno cercando di assicurare almeno un evento a settimana fino alla prossima estate. Lo sport come leva per destagionalizzare il turismo, sfruttando gli impianti sportivi di cui la nostra città è dotata, un percorso virtuoso su cui abbiamo puntato e che ci sta portando ai risultati sperati. Agropoli, spiega il consigliere con delega allo sport, Giuseppe Cammarota, è sempre più la città dello sport. È stato davvero un piacere vedere tanti atleti prendere parte agli eventi sportivi organizzati sul nostro territorio e tanti ne verranno nelle prossime settimane. Per noi è un onore avere tanta attenzione a livello nazionale, da parte delle federazioni e delle associazioni che ci apprezzano per le nostre strutture sportive e per la nostra accoglienza.